Qual è il ruolo della biopsia nella gestione delle esofagite e osinofili? Una patologia infiammatoria cronica su base immunologica o allergologica che determina tutta una serie di disturbi anche molto gravi a carico del nostro esofago. Ne abbiamo parlato con un vero esperto col professor Matteo Fassan che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso di un evento che ha fatto il punto proprio su questi temi. Professor Fassan, perché è importante effettuare le biopsie esofagee anche in assenza di alterazioni endoscopiche? Perché abbiamo un 10-15% dei nostri pazienti a endoscopia negativa ma con la malattia e quindi sostanzialmente solo l'esame istopatologico riuscirà a capire che ci troviamo di fronte a un paziente con esofagite e osinofila. Qual è il numero minimo di biopsie che andrebbe effettuato e in quali tratti dell'esofago? Il numero minimo sono due campioni bioptici nell'esofago prossimale e nell'esofago distale. Logicamente se andiamo ad aumentare il numero di biopsie effettuate andiamo ad aumentare la sensibilità della diagnosi. Quindi 4 è il minimo ma si può anche salire. Senta, di quali scorpo siamo a valerci per la valutazione istologica oltre alla conta e osinofila nel campione bioptico? Per il momento quello che noi abbiamo è il numero di osinofili che ha rappresentato dal punto di vista storico quello che è il biomarcatore per la diagnosi di esofagite e osinofila. Però c'è un nuovo score che è l'Estology Score System per esofagite e osinofila che va a considerare 8 differenti parametri istopatologici e che ha un valore molto importante soprattutto per quello che riguarda il follow up dei pazienti durante la terapia. Professore, qual è il valore di questo indice istologico che ci indica con certezza la presenza di esofagite e osinofila? È un valore soprattutto predittivo perché è un indice che va a valutare 8 parametri istopatologici tra cui ovviamente la conta degli osinofili e la predizione sta nel valutare la vera efficacia delle terapie innovative che oggi abbiamo per aiutare i nostri pazienti. Senta, che suggerimento possiamo dare agli altri colleghi anatomopatologi, professore? Assolutamente inserire questo tipo di score nel nostro report diagnostico. L'esofagite e osinofila dobbiamo saperla riconoscere e dobbiamo continuamente avere un rapporto importante con i nostri endoscopisti perché una ottima diagnosi parte da un ottimo campionamento bioptico. Professore, anche di fare qualche biopsia in più, anche questo può essere un suggerimento corretto? Assolutamente sì. Abbiamo il problema di educazione. Dobbiamo educare i patologi, gli endoscopisti del territorio alla malattia dell'esofagite e osinofila, quindi fare un numero maggiore di biopsie e avere un'educazione nella refertazione dell'esofagite e osinofila.